Io, io, io Più di mille biglietti volatilizzati in pochi giorni si prospetta un grande successo di pubblico per il concetto che la rocciosa italiana per eccellenza Gianna Nannini terrà al palaspeca di San Benedetto il 27 marzo La Piceno Eventi, agenzia di Pier Mario Maravalli che sta organizzando l'evento prevede tutto esaurito per un live che arriva sull'onda del Greatest It's Day Record Gianna Best Si tratta di una raccolta che la cantante senese ha pubblicato Prima di Natale che è rimasta per numerose settimane in cima alla classifica dei dischi più venduti in Italia Merito di It's come America, Bello Impossibile o Profumo e di nuovi successi che hanno avvicinato la Nannini ad un pubblico giovane e più variegato Come non citare allora le due ballate scritte da Pacifico Sei nell'anima e Suicidio d'amore divenute delle vere e proprie dichiarazioni d'amore anche per la generazione dei tre metri sopra il cielo Sei nell'anima I biglietti possono essere acquistati sia presso le prevendite abituali che al botteghino del Teatro Ventilio Basso presso il circuito Ticket One Una data, quella del 27 marzo fortemente voluta dall'amministrazione comunale che segna l'occasione per ribadire la vicinanza di San Benedetto alla musica pop d'autore sulla scia delle serate sold out di questa estate in compagnia di Rane Grandi e Tiziano Ferro Grazie a tutti